ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi come vedete siamo in un nuovo gioco che ora non mi viene in mente il nome ma alla fine del video ve lo farò sapere intanto questo gioco queste tre skin per adesso useremo questa poi abbiamo due veicoli o la macchina o il furgone e noi usiamo il furgone ma è bellissimo questo gioco non dovete farvi vedere dovete tenere sempre schiacciato e prendere tutto e quando la guardia come avete visto mi vede devi devi scappare il furgone poi farai la prova ovviamente quando vedi che ci sta vicino a te stacca stacca il dito e la pubblicità e diventerà una scatola perché almeno così non ti vedrà ora vi faccio vedere in che senso quello che vi sto dicendo noi arriviamo ora ci sono due guardie vedete facciamo così stacco il dito dallo schermo e diventa una scatola mi rimetto così perché c'è la guardia vicino però vengo sempre beccato beh dai già abbastanza quello che ho preso ho fatto una stella in mezza quindi dovrei poter passare al prossimo livello e infatti posso passare al prossimo livello o non dovevo schiacciare latte credo bene next livello prossimo livello ok qui siamo come vedete in un posto arriva la spiaggia rubiamo il più possibile sono stato visto sono stato visto non so se con una stella posso passare al prossimo livello invece vedendo a propria pubblicità bene ragazzi passiamo al prossimo livello prendiamo tutto qui la guardia si trova là in fondo quindi non mi dovrebbe vedere infatti prendiamo una chiave ok adesso con questa chiave posso scegliere tra le casse cerchiamo di prendere tutto quello che dobbiamo prendere ci mancano le ruote bene abbiamo preso tutto 3 stelle quindi ora corriamo verso il furgone c'è la pubblicità e ci vediamo dopo la pubblicità bene ragazzi scegliamo una cassa sì il poliziotto ok ci abbiamo fatta voglio provare a fare una cosa avendo la skin del poliziotto se il poliziotto non mi dovrebbero pensare un ladro vediamo no si mi pensano lo stesso ladro vabbè allora quello che pensavo non è giusto bene ragazzi siamo tornati guardate quanta roba ci trasformiamo in una scatola di nuovo prendiamo tutto aspettate corriamo di per di qua ok abbiamo preso tutto cavolo non mi ha visto facciamo anche il livello 50 e per oggi possiamo finire bene ragazzi facciamo il livello 50 aspettate bene dobbiamo prendiamo anche qua no ok no sono stato visto ma vabbè abbiamo superato anche questo livello ok ragazzi per oggi abbiamo finito e ci vediamo la prossima volta ciao 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 ciao